Traffico bloccato con una lunga coda di 5 km che si è formata sulla A4 in direzione Venezia per un incidente con 5 veicoli un chilometro prima dell'uscita di Palmanova nel tratto Villesse-Palmanova. L'incidente ha coinvolto in tutto 17 persone. Fortunatamente nessuna di queste è rimasta ferita in maniera grave. Il maxitamponamento è avvenuto alle 13. Sul posto sono occorsi operatori del 118, un elicottero, vigili del fuoco, pulizia stradale e personale di autostrada e alto adriatico. I pompieri, dopo aver appurato che all'interno delle vetture non vi fossero persone incastrate, hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli danneggiati. Secondo quanto ha reso noto la società autostradale, i mezzi di soccorso meccanico sono stati all'opera tutto il pomeriggio per rimuovere i mezzi che occupavano l'intera carreggiata. Per tutta la durata dei soccorsi e fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza, il tratto autostradale interessato dal sinistro è rimasto chiuso al traffico in direzione Venezia. Un impatto non indifferente quello causato dall'incidente di questo sabato. Oggi i transiti, come da previsioni, erano particolarmente intensi lungo la direttrice Trieste-Venezia, con code che si sono formate dalle 11 circa in ingresso alla barriera triestina dell'Isert.